Siete girati di qua eh? Raga, raga, qua che facciamo la formazione. C'è la formazione. La formazione, raga, ok, grazie, è la formazione che giocava in teoria, eh dai, Dio buono, ho giocato finora, vai, vai, ok, grazie, partiamo in otto, vai, 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 e poi, guardiamo. Vabbè Alberto, non sia, noi,ani. La mia membru è un posto che si è fatto. bravo 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 quando hai detto guardiamohi Grazie Grazie Tutto sto casino per poi tirare contro la barriera Ci sono anche i filmati se vuoi Ci sono anche i filmati Eh, delle partite Ce l'hai internet? Ehi, con poluzione Arco, vale, arco, l'arco, vale Valo, valo Bravo, cazzo di potenza di potenza Buono, buono, buono Buono, arriva Buono, arriva Buono, arriva Vieni Tony Vieni 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 Tre Vieni 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 Hai visto che c'è raro qui? Ora lui svuota Se lo vuole non mi diceva di farci Sì, sì, sì Vieni Grazie a tutti! Vai, vai! Portalo là vicino alla porta, Antonio, che dopo ce lo dimentichiamo qua. Gli pressa! Vai, vai! Gol! Vabbè, ha detto finale 1... Buona, buona stop! Vabbè, ha detto finale 1... Buona, buona stop! grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti bravo Grazie a tutti. Ragazzi, ragazzi, vi posso chiedere una cortesia se andiamo giù a fare le prime azioni? Grazie. Eccolo l'anno scorso! No! Andiamo giù ragazzi, per favore! Grazie! Vai! Antonio! Io non ho contato niente! Antonio! 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 Grandi campioni! Grazie! 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 Vi aspettiamo per i prossimi campionati sport di calcio a 5, calcio a 7 e calcio a 11. I campionati dove per play conto per davvero! I don't know why I tried. Was that neither cool one or some other guy? Grazie a tutti!